Buongiorno a tutti, io sono Francesca del GDG Friense, per chi non c'era stamattina ma sto duplicando la mia presentazione. Io sono Alberto, ciao. Noi facciamo sempre copia nelle presentazioni e nel gruppo. Oggi pomeriggio siamo qui per farvi una breve presentazione di WebRTC e GWT per legarci al discorso di Davide con un nostro esempio di applicazione, breve perché il tempo non ce lo consente. Che cos'è WebRTC? WebRTC è sostanzialmente uno strumento gratuito, open, che ci consente di effettuare comunicazioni real time fra diversi browser attraverso una semplice JavaScript API. Che significa? Significa che diversi browser possono connettersi direttamente fra di loro senza un server fra questa comunicazione. e inoltre è uno strumento che non ha bisogno di alcun plugin installato nel nostro browser. Ok, possiamo anche dire, vabbè, è un'altra API JavaScript, ne abbiamo sentite tantissime e questa è semplicemente un'altra. Tuttavia a sentire, insomma, anche persone abbastanza importanti, tipo il sito di Mosilla, definisce WebRTC come una nuova frontiera in quello che è la guerra, o comunque il voler ottenere e avere un web libero e senza controlli. Che cosa significa questo? Allora, i browser all'inizio erano strumenti che alla fin fine ci consentivano di visualizzare pagine HTML, non avevano accesso al file system, non avevano accesso a, non avevano la possibilità di effettuare molte operazioni. Ok, non c'era l'accesso al file system, è quindi nata la file API che ci ha consentito di effettuare questa cosa, quindi c'è stato nel corso del tempo quello che è stato definito un browser piercing, cioè un bucarellare il browser per poter accedere a tutti gli strumenti a nostra disposizione nella macchina in cui il browser girava. Non c'era la possibilità di effettuare full duplex socket connection, sono state realizzate quelle che vengono definite le web sockets, non si aveva la possibilità di accedere all'acceleratore grafico, è quindi nata WebGL, avere più threads e sono nati web workers. Qual è la successiva frontiera? Quella di poter accedere a quello che sono gli stream multimediali a disposizione, video e audio e riuscire ad effettuare comunicazioni peer to peer direttamente appunto come dicevamo all'inizio senza ripeto fra virgolette l'utilizzo o la presenza di un server di appoggio e questo è quello che ci consente di effettuare web RTC. Inoltre è cross platform, che cosa significa? Che è indipendente dal browser, dalla piattaforma che stiamo considerando. Nell'immagine infatti possiamo vedere la prima web comunicazione web fra il CTO di Mozilla e Chrome che utilizza appunto una video chat che utilizza WebRTC per la comunicazione. Chi supporta attualmente WebRTC è supportato da Chrome, Chrome mobile, Firefox anche la versione mobile, Opera, native Java e molto probabilmente prestissimo anche in Internet Explorer nella successiva versione e inizierà a supportare WebRTC. Per la verità qualcuno dice che adesso che Skype è della Microsoft, Skype sarà basato su WebRTC nelle prossime versioni. Dicono. Andiamo a vedere quali sono queste funzionalità che ci consentono di acquisire gli stream multimediali. Quella che abbiamo a disposizione è la GetUserMedia che ci consente appunto di acquisire l'audio e il video nella nostra webcam. I parametri che vengono passati alla GetUserMedia sono i constraints, la success callback, l'error callback. I constraints sono sostanzialmente alcuni parametri che ci consentono di specificare che cosa andiamo ad utilizzare per esempio se solamente video, video e audio, solamente audio e alcuni field riguardanti questi parametri. la risoluzione del video, il frame rate e così via. Che vanno specificati spesso a seconda del browser che si intende supportare. Poi abbiamo l'error callback banalmente che ci consente di gestire gli errori. In questo contesto specificare l'error callback è importante anche perché questa gestisce quando viene chiesta l'autorizzazione di accesso alla webcam, nel momento in cui l'autorizzazione viene negata questa è la funzione che viene chiamata. banalmente, no banalmente, la funzione più importante che abbiamo a disposizione è la success callback alla quale viene passato lo stream che stiamo acquisendo. Il media stream appunto che è un flusso di audio e video che a questo punto all'interno della success callback abbiamo a disposizione. Quando abbiamo a disposizione questo video la cosa più banale che ci viene da fare è per esempio acquisire il video, inserirlo all'interno di un tag video e visualizzarlo nel nostro browser. Già a questo punto vediamo che WebRTC ci dà la possibilità semplicemente di acquisire lo stream. Per visualizzarlo all'interno del browser dobbiamo utilizzare la file API. Tutto questo, la visualizzazione di un video all'interno di un browser si riduce alla fin fine in pochissime righe di codice. Questo codice ci mostra il video all'interno del nostro browser con l'error callback nella success callback appunto l'acquisizione del video. La seconda parte della WebRTC è sostanzialmente quella che dicevamo all'inizio, cioè la peer point to point connection. Questa ci consente, la RTC peer connection consente la trasmissione diretta fra browser e browser degli stream multimediali. Per effettuare uno scambio diretto di dati di tipo generico abbiamo invece a disposizione quella che è la RTC data channel. Qui ho riportato alcuni dati arbitrari che possono essere scambiati come dei messaggi in una chat, messaggi di testo, piuttosto che la posizione di alcune variabili all'interno del canvas. E questo è un altro esempio dove riusciamo a utilizzare questa stream RTC peer connection API. Allora, questa è una schematizzazione di come tutto l'apparato funziona. Che cosa succede? I browser riescono a comunicare direttamente e la app che c'è dietro gestisce quello che è il signaling e l'inizializzazione delle connessioni fra browser. Diciamo che in un mondo perfetto, in un web perfetto, la connessione attraverso web RTC può essere schematizzata in questa maniera. Dove una volta gestito il signaling che cosa succede? I due browser riescono a comunicare direttamente. Tuttavia il web è un qualcosa di un po' più complesso, quindi spesso ci sono dei server che fanno nothing e questo significa che va gestita la parte di connessione attraverso degli stand server o dei turn server per riuscire a effettuare la connessione. Questa è stata una schematizzazione abbastanza rapida del funzionamento del web RTC e dell'API che c'è dietro. Tuttavia sono già state realizzate alcune librerie che consentono di realizzare tutto questo in maniera estremamente semplice e diretta. Ora c'è Alberto che descrive la nostra applicazione e il nostro utilizzo di web RTC. Ciao. Ciao, di nuovo. Sì, come vi dice Francesca, web RTC è questo protocollo, questa JavaScript API che vi permette di fare comunicazioni. Ci sono un sacco di dettagli da sistemare, come davvero i due browser potranno comunicare, eccetera, eccetera. E ci sono già delle librerie belle che pronte in JavaScript per poterlo utilizzare. Ora noi vi vogliamo dire cosa a noi è interessato di questa libreria e quali sono le prospettive che secondo noi apre l'utilizzo. Non so utilizzare un microfono, quindi se non mi sentite ho alzato una mano. Dicevo, cosa questa nuova API ci ha dato a disposizione e quali sono le cose che alla lunga sembrano interessanti da fare con questa API, ma probabilmente anche con tante altre, che è l'idea generale di fare elaborazione all'interno del browser, che è una cosa che noi riteniamo sia molto importante e diventerà sempre più importante negli anni a venire. Perché Get User Media ci dà lo stream, va bene. Peel Connection, ci ha detto Francesca, ci permetterebbe di trasmetterlo, però trasmetterlo e basta. Noi lo vogliamo elaborare, quello stream. Quindi noi lo prendiamo e lo buttiamo dentro un video. Francesca va fatto vedere come un video, poi sta nella specifica del canvas, ce lo possiamo copiare come drawable su un canvas. Una volta che ce l'abbiamo su un canvas lo possiamo tirare fuori, possiamo estrarre la pixel data. Quindi possiamo avere in tempo reale, possiamo avere in tempo reale poi il frame rate, difenderà da quanto siamo bravi a scrivere l'applicazione, possiamo estrarre i fotogrammi dallo stream video e quindi cercare di elaborarli. Cioè noi possiamo cercare di fare... E allora? Allora noi possiamo cercare all'interno del browser di fare elaborazione in tempo reale dello stream video. E quale devono essere i nostri goal? Devono essere quelli di fare una cosa che abbia una performance quasi nativa. Perché se no... Perché farlo dentro il browser se non riusciamo ad andare abbastanza veloci per quello che vogliamo. E avremo quindi all'interno del browser da manage, come si dice, da gestire algoritmi complessi, e va bene, ed applicazioni altrettanto complesse. Questo ci lega con il talk di Davide. Perché il nostro approccio, alla fine, dopo tanti tentativi, è stato quello che non ce la facciamo a gestire le applicazioni direttamente in JavaScript a mano, ma dobbiamo appoggiarci a qualcos'altro. Noi le scriviamo in Java, con GWT, e poi utilizziamo il JavaScript come target language. Cioè, deleghiamo la scrittura della maggior parte del codice JavaScript al toolkit, al compilatore, noi scriviamo in Java dove sappiamo gestire meglio gli algoritmi, dove sappiamo gestire meglio le applicazioni, e poi facciamo come si faceva una volta con il C. Vi ricordate? Si prendeva i pezzi di C che erano da ottimizzare e si riscriveva in assembler. Noi pensiamo al JavaScript esattamente come il nostro assembler, e poi ci mettiamo a mano le parti che misuriamo essere non fatte abbastanza ottimizzate dal compilatore JavaScript, e ce le ottimizziamo a mano, direttamente utilizzando il JavaScript, e quindi cercando di far capire ai just-in-time compiler dei diversi browser come ottimizzare e come rendere performante quasi come un codice nativo il codice che abbiamo scritto. Prima o poi capirò in che direzione devo andarlo. Quindi, avevo detto che ce la mettevo questa, questa è il perché utilizziamo GWT, e visto che nessuno l'ha detto, fino ad ora cos'è GWT? GWT è questo compilatore che fa anche ottimizzazione da Java a JavaScript, un'intera JRE emulata, quindi tutto quello che potete aver bisogno per sviluppare programmi in Java, e in più uno widget set sufficientemente ricco per quanto ci riguarda per sviluppare le user interface in GWT. Quindi, si sviluppa in Java e si esegue in JavaScript. Adesso Francesca vi mostra, Francesca perché non ho il computer qua, vi mostra l'applicazione che è venuta fuori e poi facciamo due commenti su quello che volevamo fare e fino a che punto ci siamo arrivati. L'applicazione per la verità è pubblicata su App Engine, quindi chiunque la voglia provare lo può fare, e tutto quello che faremo non viene fatto su un server. Di fatto le comunicazioni col server servono soltanto per condividere le immaginette che andremo a fare, ma tutte le operazioni avvengono dentro al browser. Ci abbiamo una poverissima galleria tenuta su App Engine, le immagini stanno su Imajor, tutta l'operazione di creazione delle immagini e di spedizione ai servizi è gestita tutta client-side. Come vedete Francesca ha fatto una richiesta a GetCuserMedia cliccando sul bottone, come vi diceva prima viene chiesta l'autorizzazione ad accedere agli stream, quando Francesca darà consenti il browser cattura la telecamera. Eccola! Allora dicevamo non, come vedete abbiamo fatto direttamente dal browser senza l'utilizzo di nessun'altra tecnologia, a parte la webcam, l'acquisizione dello stream video. Lo stream video è stato catturato, adesso se Francesca aggiunge uno dei filtri a sinistra, come vedete si riesce a fare direttamente sul browser elaborazione video in tempo reale. Questo perché? Perché l'elaborazione video, il browser, abbiamo prima fatto una lunga tiritera su tutte le API javascript che conoscevamo, perché tutte queste operazioni è estremamente facile al giorno d'oggi farle fare direttamente all'acceleratore grafico, e quindi queste vanno effettivamente alla solita performance di un'applicazione nativa. Ma ancora di più, è possibile fare calcoli estremamente complessi, almeno nel loro insieme all'interno del browser. Se vedete Francesca ha qua in alto un'immaginetta, questo qui è quello che noi chiamiamo un marker, non so se avete mai sentito parlare di augmented reality marker based, significa che potete scrivere un'applicazione, esistono delle librerie per farlo, per far sì che riconosca in tempo reale un'immagine, quando gli viene mostrata, e vi ritorni la posizione, nello spazio della telecamera, del marker stesso. E quindi lo potete utilizzare, ad esempio sempre con WebGL, per sintetizzare nuovi oggetti ed aggiungerli allo stream video. Se Francesca adesso mostra uno dei marker, come vedete, eccolo là, è sempre all'incontrario lui, come vedete, l'applicazione all'interno del browser, quindi tutto javascript e basta, non c'è una comunicazione col server a pagarla, sta riconoscendo la posizione del marker e ci sostituisce un poligono che avevamo precaricato. Come lo facciamo con questo? Lo possiamo fare con qualsiasi altro. E addirittura lo possiamo fare, non perché sia particolarmente interessante, ma per farvi vedere quanto un browser su un computer possa andare veloce oggi, possiamo fare la detection di più marker contemporaneamente. E voilà, il porcellino, l'androide e compagnia bella. Ora, chi avesse visto, c'è il draghetto, dopo se andate su picture, poi lo potete fare anche voi, e poi se utilizzate il tasto con la macchina fotografica potete salvarli sui major e eventualmente condividerli, così ci fate un po' di pubblicità che schifo non fa mai. Dicevo, non la cosa... Vai, passa, ritorniamo alle slide. Ora, se di per sé è interessante l'applicazione, a noi ci è divertito un sacco farla, quello che noi troviamo che sia interessante ora dire è che io ancora non ho capito che tasto devo premere, eccolo qua, è che si possono utilizzare per fare un'applicazione come questa, ma qualsiasi applicazione che vi possa venire in mente che faccia anche computation, calcolo non banale, può essere fatta all'interno del browser e potete appoggiarvi a tutta una serie di strumenti. WebGL per la grafica 3D, WebRTC per prendere i media stream. Noi abbiamo utilizzato i major che è un servizio sostanzialmente gratuito per appoggiare le immagini app engine per registrare gli indici. Con GWT come colla di tutti quanti questi strumenti abbiamo ottenuto l'image gallery che permette di fare le fotografie, permette di modificarle ma quello è meno importante, e di farne l'upload utilizzando tutti i servizi totalmente gratuiti che eventualmente, se poi diventa il vostro business, potete far crescere a pagamento. E' interessante come con questi strumenti e con le nuove API javascript si riesca a fare un sacco di operazioni interamente all'interno del browser. Ora, chi avesse visto la nostra presentazione alla DevFest dell'anno scorso direbbe sì, vabbè, questi sono stati a sedere perché ci fanno rivedere qualcosa di simile all'anno scorso. Beh, tutto sommato è vero perché chi avesse visto il programma dell'anno scorso più o meno era simile. Cosa c'è stato in mezzo a tutto questo? In mezzo a tutto questo c'è stato, oltre a questo qui che vi racconto troppo, c'è stato quello che abbiamo dovuto affrontare tutta una serie di sfide per trasformare l'applicazione che l'anno scorso avevamo già in un'applicazione che adesso gira qualcosa come 5 volte più veloce dell'anno scorso e va sui telefoni cellulari nuovi, anche se la user interface ancora non è disegnata sui cellulari, riesce a girare anche sui browser da cellulare. E come abbiamo fatto? Abbiamo fatto investendo in GWT e in capire come il codice GWT veniva generato e come era possibile ottimizzarlo a mano. Ed adesso stiamo cercando di andare anche sui cellulari più vecchi come il mio, in real time sui cellulari e di spostare sul browser altre librerie che possono essere di grande interesse da essere utilizzate in applicazioni che non consumeranno risorse server-side ma solo nel client e l'utente. Ad esempio tutte quelle che fanno computer vision. Noi stiamo lavorando adesso nel ricompilare o meglio adattare bovcv per funzionare direttamente nel browser, così dove siamo in grado di catturare la webcam dell'utente siamo in grado anche di elaborare direttamente le immagini. Quindi fare applicazioni che richiedano poca banda e che sfruttino soprattutto le capacità computazionali del desktop dell'utente e non dei nostri server. Ad esempio stiamo lavorando con un museo per fare un'applicazione che sia mobile che desktop per riconoscere le varie parti del museo in modo che possa veicolare ai visitatori piuttosto che a chi sta a casa da delle fotografie informazioni su dove trovano quella cosa all'interno del museo e cos'altro c'è da vedere intorno. Ci sono tutta una serie di operazioni interessanti da essere fatte. Se poi volete provarle, questa era la slide precedente, ci sono anche due progetti su Google Code completamente liberi che vi permettono di fare la parte di detection e la parte di visualizzazione degli oggetti direttamente sul canvas con WebGL. Un'ultima parola. GWT qui è stato importante non soltanto per darci l'infrastruttura per fare il... Vabbè, questo è come abbiamo ottimizzato. Non soltanto per darci l'infrastruttura per scrivere le applicazioni, ma ci è servita anche per un'altra cosa. L'augmented reality non l'abbiamo inventata noi. Esistevano già le librerie per farlo, tra l'altro esisteva NY Art Toolkit, una libreria che era fatta per fare augmented reality marker based in Java. Riscriverla tutta dall'inizio sarebbe stato un lavoro ciclopico, un lavoro che io e Francesca Rassoli non avremmo mai potuto fare. Ma GWT è un compilatore da Java a JavaScript. Noi abbiamo preso le librerie Java, abbiamo scritto un po' di codice per adattarle a poter funzionare in un browser e a quel punto siamo stati in grado, senza doversi reinventare la libreria completamente, di trasformare una cosa che era pensata per essere eseguita su un'applicazione desktop o su un server per farla eseguire dentro al browser. E questo, almeno secondo noi, è una gigantesca marcia in più per chi decida di sviluppare direttamente con GWT. Per concludere, questi sono riferimenti a web RTC e contattateci per qualsiasi cosa. Questo è tutto, io sono Alberto. Se qualcuno ha un computer e vuole provare FixShare, abbiamo un po' di marker già stampati che vi possiamo dare volentieri così fate le prove. Ciao. Grazie. 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 Grazie.